Esistono delle differenze tra la scocca del veicolo convenzionale e quella del veicolo elettrico. Prima di adentrarci su queste differenze, che comunque non sono enormi, occorre puntualizzare le funzioni di una scocca. Le funzioni della scocca sono quella di trasportare le persone, quindi sostenere un carico, deformarsi il meno possibile, resistere alle sollecitazioni che derivano dal fatto che il veicolo viaggia su strada e l'ultimo è quello di assorbire un'energia in caso di urto durante un incidente. Per quanto riguarda la funzione relativa alla deformazione e alla resistenza meccanica, qui le problematiche del veicolo convenzionale e del veicolo a trazione elettrica sono ovviamente uguali. Mentre per quanto riguarda il comportamento in caso di urti, qui occorre ricordarsi che le batterie devono essere protette, devono essere poste in una posizione dove in caso di urto il danneggiamento della batteria non provochi problemi alle persone sia trasportate sia che si possono trovare all'esterno del veicolo. La norma ISO 12405 prevede di sollecitare il pacco batterie con accelerazioni fino a 500 metri al secondo quadrato per 6 millesimi di secondo. Occorre limitare l'intrusione di parti contundenti durante l'incidente all'interno del veicolo e per questo esistono delle mappe che fanno vedere come si può deformare statisticamente la scocca del veicolo e quindi dove è il luogo migliore per posizionare la batteria. Si scopre che il luogo migliore è il centro del veicolo in basso, quindi tutte le vetture elettriche nate per essere unicamente veicoli elettrici hanno una specie di vasca centrale nella quale è alloggiata la batteria. Per concludere si può dire che il posizionamento della batteria è cruciale per quanto riguarda la sicurezza del veicolo, quindi le differenze della scocca per i veicoli convenzionali e per i veicoli elettrici ci sono, non sono importantissime tranne che per le questioni relative agli incidenti stradali.